laudetur jesus christus cari amici teleradioscoltatori e per luigi bianchi cagliesi che vi parla oggi 9 luglio 2021 per il nostro commento del giorno italia sempre più emarginata discriminata ghettizzata perseguitata da questa unione europea e da un governo che ormai si sta trasformando anzi non diciamo si sta trasformando ma si è trasformato in un vero e proprio regime cosa aspetta ai nostri ragazzi i nostri giovani quando alla fine del mese di agosto dovranno ritornare a scuola cosa attenderà gli italiani in un clima in cui tutto appare sempre più incerto tutto sta frantumandosi molto velocemente le prime notizie vedete arrivano proprio dall'emilia romagna nota regione rossa in prima linea per proprio dettare le linee guida a tutti gli altri dove c'è stato proprio in questi ultimi giorni un intervento dell'assessore regionale la salute a certa un certo raffaele donini che appunto ha fatto già alcune dichiarazioni molto interessanti sul rientro in aula degli studenti che dice potrebbe essere condizionato dall'aver fatto o meno la doppia dose di vaccini e aggiunge dicendo che già oggi abbiamo il personale vaccinato oltre 80 per cento avendo anche la possibilità di vaccinare i ragazzi potremmo iniziare la scuola a settembre in maniera sicura questo è raffaele donini e quindi per chiarire meglio il concetto che asfalterebbe di fatto il diritto all'autodeterminazione e centinaia di migliaia di famiglie ecco che arrivano i primi messaggi e cosa accadrà di quelli che non sono in questa linea tutti gli altri cioè mamme papà che non si sentiranno di vaccinare loro figli saranno condannati alla didattica a distanza in nome di un principio assolutistico che è stato elaborato come sempre nella rossa emilia ma che troverà terreno fertile anche in tutte le altre regioni perché vedete basterà veicolare l'idea di questo assessore della giunta bonaccini e solo così cioè con tutti i vaccinati la scuola potrà affrontare la ripartenza senza più ricorrere alla didattica a distanza volete mandare i figli a scuola e dovete vaccinare non li volete vaccinare ve li tenete a casa e poi si vedrà quello che succederà pensate che proprio un magistrato della cassazione sergio gallo ha proprio dichiarato in questi giorni che la tirannia del diritto alla salute ha fagocitato altri diritti costituzionali di pari importanza perché stanno facendo un'operazione molto simile cercando di imporre il vaccino per poter studiare a scuola e quindi non da casa poi quanto ai metodi coercitivi la sfida ormai aperta a chi suggerisce proprio le peggiori discriminazioni e in questo contesto veramente squallido si è buttato pure l'infettivologo matteo bassetti prospettando che si arriverà a un punto in cui si dirà il lockdown riguarda i non vaccinati ma che cosa li volete fare non vaccinati volete mettere in carcere li volete uccidere li volete marginare che cosa volete farne questo è il nome della democrazia del nostro paese e allora cari amici tedeschi ascoltatori ecco che succede qualche cosa veramente di incredibile nel nostro paese incredibile che contrasta addirittura con norme che vengono dall'unione europea perché proprio il 14 giugno scorso è accaduto che è stato approvato il regolamento dell'unione europea il 2021 953 e anche del consiglio europeo sul cosiddetto green pass ebbene questo sito di eurlex riporta il testo in 24 lingue il paragrafo 36 di questo testo ha un'importanza particolare in quanto prevede la necessità di evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate lo ripeto paragrafo paragrafo 36 del testo approvato il regolamento dell'unione europea dichiara che la necessità c'è la necessità di evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate a titolo semplificativo si arrancano tutta una serie di ragioni che potrebbero orientare i cittadini europei a non avvalersi delle vaccinazioni per esempio per motivi medici perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anticovide 19 attualmente somministrato o consentito come i bambini o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinati e insomma nel breve l'elenco delle semplificazioni non figurano quanti non si vaccinano semplicemente perché non lo vogliono fare per sbagliate ragioni il punto è che questa categoria non risulta solo nella traduzione italiana cioè che cosa è successo in questo nella pubblicazione di questo testo in questo paragrafo 36 del regolamento dell'unione europea che stabilisce dicevo di evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate succede che quest'ultimo punto che quello uno dei più importanti manca la traduzione italiana mentre esiste in tutte le altre versioni inglese francese e spagnolo in italiano non c'è quindi noi italiani non siamo praticamente stati contemplati è un errore non si capisce bene cosa è successo in questa diciamo segnalazione che ovviamente doveva essere riportata anche nella nostra lingua quindi si tratta di cosa di una casualità di una manomissione questo problema è stato già segnalato da settimane al servizio traduzioni ma nel sito dell'unione europea nel sito dell'unione europea non se ne vede traccia qualcosa veramente incredibile perché non possiamo non domandarci come sia possibile che la traduzione di un regolamento europeo che sicuramente è stato rivisto da collaboratori del traduttore possa contenere un errore così madornale e che che quell'errore si sia verificato proprio nella lingua di quello stato che ha decretato per legge l'obbligatorietà vaccinale per un'ampia categoria di lavoratori quali sono quelli del comparto sanità soprattutto determinando così già di fatto la messa in atto di una discriminazione ecco che appunto il testo della risoluzione 2361 che riguarda proprio la necessità di evitare di discriminazione scompare nella lingua italiana questo è quello che accade che le amici questa riunione europea questa è l'italia l'italia nel 2021 su cui anche il cardinal miller ex prefetto della congregazione rotina della fede ha preso posizione dichiarando recentemente in un'intervista che qui veramente è messa a ripetaglio la libertà di fede anche dei cristiani minacciata da aggressive agende di scristia in tazione nelle istituzioni dell'unione europea nell'amministrazione biden negli stati islamici eccetera e poi aggiunge cardinal miller che lo stato esiste per il popolo e non il popolo per lo stato il cittadino non è la proprietà di chi è il potere ma il popolo e il sovrano a cui il governo deve rendere conto cosa che non accade più da diversi anni in italia nessun uomo ha il diritto di decidere sulla vita l'integrità corporea la libertà di coscienza e di credo di un altro né si deve parlare di una limitazione dei diritti fondamentali e aggiunge questa stessa intervista cardinal miller che i super miliardari americani i soliti personaggi della grande finanza i giganti della tecnologia dell'industria farmaceutica attraverso le loro fondazioni e le opportunità del grande reset dopo la crisi del coronavirus stanno cercando di imporre al mondo intero la loro povera concezione dell'umanità e la loro visione del mondo economicamente limitata in relazione al modello del partito comunista cinese è così bello appartenere a una comunità dove tutti sono uguali pensano lo stesso sentono lo stesso e sono omogenei nell'indignazione verso i dissidenti e sono pieni di ammirazione per gli eroi coraggiosi nel senso dei potenti questo è l'allineamento al pensiero politicamente corretto contro cui si sta contrapponendo soprattutto il primo ministro ungherese Viktor Orban che torna proprio in questi giorni da Katowice in Polonia dove si è riunito il gruppo di vicegrad a replicare le critiche alla controversa legge di Budapest che vieta la diffusione di contenuti omosessuali ai minori e proprio Orban a dichiarare riguardo proprio questa ideologia che sta massacrando materialmente e spiritualmente i nostri giovani che non possiamo accettare che altri paesi membri dell'unione europea ci dicano come educare i nostri figli questo ha detto Orban in occasione della cerimonia che sancisce il via ai 12 mesi di presidenza ungherese del gruppo di cui fanno parte anche da Polonia la Slovacchia la Repubblica cieca è assolutamente inaccettabile dice che dei paesi dell'unione europea vogliano piegarci al loro volere dobbiamo porre un termine a questa dittatura e il riferimento era ovviamente proprio ai propositi del premier olandese Mark Rutte che aveva detto di voler piegare Budapest sulla legge contestata e fra i suoi più duri critici che aveva già indicato come misura che va presa che deve essere in qualche modo varata per piegare l'Ungheria proprio il fatto che l'Ungheria ormai secondo loro non ha più nulla a che spartire con l'unione europea e meno male che non ha più nulla a che spartire con l'unione europea proprio per il fatto di volersi affrancare da una dittatura da una dittatura che è veramente biosanitaria ma è anche una dittatura che vuole dissolvere ogni categoria morale ogni principio cristiano ebbene cari amici dei radioascoltatori il 22 ottobre del 1866 il beato Pionono è un momento di grandissime difficoltà eravamo proprio ormai nella tempesta prima del crollo dello stato pontificio della di tutti gli stati sovrani cattolici che in quel momento ancora regnavano in Italia scrisse una preghiera accorata che diceva ve ne reggo solo alcuni passi molto significativi Gesù dolcissimo nostro divino maestro distrugge i piani degli impi di tutti quelli che nella meschinità del loro anima l'animo cercano di sedurre e di sopraffare il tuo popolo con le loro false sottigliezze illumina tutti noi tuoi discepoli con la luce della tua grazia perché non ci accada divenire corrotti dall'astuzia dei sapienti di questo mondo che diffondono dovunque i loro funesti sofismi per trascinare anche noi nei loro errori o Gesù dolcissimo nostro divino maestro distrugge i piani degli impi e di tutti quelli che nella meschinità del loro anima l'animo cercano di sedurre e di sopraffare il tuo popolo cari amici dei radioascoltatori il signore molto presto molto presto distruggerà i piani degli impi perché già si stanno frantumando noi non riusciamo a vederlo fino al fondo ma percepiamo e individuiamo una serie di falle che si stanno aprendo sempre più profondamente e che da un momento all'altro faranno emergere tutta la fragilità di un sistema malefico costruito per distruggere l'idea di dio le riferimenti ai valori cristiani e soprattutto distruggere l'uomo e creare un mondo che sia l'immagine vera propria immagine dell'inferno ma questo progetto dicevo sta ormai arrivando al suo al suo finale al suo diciamo punto critico e proprio per questo lo vedremo crollare da un momento all'altro naturalmente senza che ci siano contorcimenti colpi di coda e situazioni che naturalmente prima del trionfo del cuore immacolato di maria ci faranno entrare in una fase di grandi sofferenze e turbolenze finali che saranno gli ultimi rantoli di un mostro che sta ormai agonizzando prima di definitivamente morire ed essere sconfitto ed è in questa certezza cari amici tele radio ascoltatori che auguro a tutti voi una buona giornata laudetur jesus christus grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.